Sono un bel donnone va? Cucume sami, bentrovati, bentrovati, video spesa lì dell'Eurospin. Parto da Eurospin dove ho recuperato un po' di carne per una grigliata. Per chi è sensibile a questi contenuti, perché vegano e vegetariano ovviamente bypassi, ho preso delle carote da grattugiare, dei pomodori piccadilli, ho preso anche dei pisellini perché iniziano con questo caldo le insalate di riso. Era in offerta anche il sugo ai frutti di mare, io spesso questo lo utilizzo per andare a condire anche il farro, per fare l'insalata di farro, aggiungo poi dei pomodrini freschi, è molto gustosa. Ho preso anche questi sei wuster, quasi seietti, di questa linea Servelade, non so se la pronuncia sia corretta, sono senza glutine, senza latte derivati, senza glutamato aggiunto, senza poliposfati aggiunti, puro suino a un 80%, leggermente affumicato e senza pelle. Io questi li uso per grigliare oppure li vado a tagliare, aggiungere a fettine alle insalate di riso. Io gli altri di pollo, di tacchino, mi dispiace, non li prendo, anche questi non so come siano fatti, però sono di qualità superiore. Yogurt bianco greco, olive verdi denocciolate da aggiungere alle insalate di riso, Ho preso questa tonica con infuso di limone femminello del Gargano IGP, queste sono delle bibite che prendo sempre volentieri in estate da tenere a disposizione in frigorifero, a portata di tutti, insomma, se arrivano amici o ospiti, c'era anche il chinotto, l'acqua tonica normale, insomma, le classiche bevande hanno forse cambiato il pack. Ceci lessati, questi sono coltivati in Italia, sono buonissimi. Farro precotto, 10 minuti, aggiungete pomodori freschi, un po' di basilico e fate andare un po' in padella questo sugo già preparato ai frutti di mare, è un'ottima insalata fredda da mangiare per un pasto veloce. Le zucchine, ho preso queste verdi, che sapete non mi piacciono, ma ho riscontrato che nella cocoy sarda la ricetta è qua nella scheda, ve la lascio, basta che cliccate sopra e vi rimanda al contenuto che vi ho già girato la scorsa estate, no, scusate. La ricetta è con farina di tipo zero, io ultimamente utilizzo anche la farina di ceci, è anche molto più buona, sarebbe ancora più buona con la farina di semola, di mais, viene un po' più rustica, un po' più grossolana, potete farne delle tegliate, perché vedo anche i miei figli ne mangiano proprio a volontà, un piatto ottimo anche per i vegetariani e i vegani, perché a parte l'olio non c'è nulla, io non aggiungo uovo, cioè voi le grattugiate, il trucco è che queste zucchine sono un po' più acquose, quindi quando le mescolate con il sale, le dovete anche un po' pressare, vanno a perdere un po' di acqua, che poi aggiungendo la farina diventa un composto bello omogeneo, semiliquido, non semiliquido, perché comunque ci sono, io ne gratto almeno tre di queste, tre zucchine, due carote, una cipolla, potete aggiungere anche pomodori, ma viene una bontà. Ho preso anche dei filetti di acciuga semplici, e questi che sono arrotolati con i capperi, era in offerta la pasta, questo è 100% grano italiano, vi ho girato anche un reel, ve lo lascio a lato, da Eurospin non solo dei doccia a schiuma nuovi, ma anche dei nuovi profumini, uno mi ricordava Olimpea di Paco Rabanne, l'altro un fiorito, un po' come la Vie Belle, i vari flanker, quindi ho bypassato, molto bella anche la mist per corpo e capelli con tutti i glitter, ma un po' troppi glitter per il mio personale gusto. Arriviamo da Lidl e parliamo di questo mezzo chilo di olio di cocco, utilizzabile non solo in campo cosmetico, come maschera, trattamento per i capelli, ma anche in campo alimentare, sapete che un cucchiaio, ma io non riesco, un cucchiaio è troppo, mezzo cucchiaino è un potente acceleratore del metabolismo, per chi ha intenzione di mettersi a dieta e in linea, così ve la lancio come una perla. Due pacchetti di banana chips, ho ripreso i trancetti di tonno all'olio di oliva, c'erano allo stesso prezzo forse quelli del Nostromo, e non avevo voglia però di ritornare nel reparto delle edizioni limitate, quindi mi sono trovata nella corsia del tonno e del pesce, ho preso l'oro, ma a parità di prezzo forse era meglio prendere Nostromo, anche se è sempre figlio della stessa madre, esce dalla stessa fabbrica. Invece ho preso questo tonno e fagioli, perché dal mio punto di vista era una linea presente in gamma permanente anni fa da Lidl, e poi è sparita, l'ho rivista nel bancone delle edizioni limitate e l'ho presa, fatemi sapere se invece voi la trovate sempre. Poi ho preso questa sottoveste modellante in taglia XL, lo scorso anno avevo preso in taglia L color carne, la stessa sottoveste, ma per me è corta. Ho preferito prendere una XL per abbracciare meglio il corpo, perché essendo tutta elasticizzata, se la indossate e camminate vi sale, ed è un effetto anche antipatico, perché vedete aggrinzarsi sotto i vestiti ovviamente la sottoveste. Ho preferito che sia un po' più morbida, perché comunque sul seno è sempre ben strutturata, cioè non ho bisogno, anche se mi avete detto che sono ingrassata. Per ora mi vanno bene ancora gli stessi abiti di sempre, sicuramente sono ferma da un mese, perché sono in convalescenza, quindi non mi posso muovere più di tanto, avrò accumulato un po' di liquidi sotto medicina e sotto punture, ci sta. Il seno è sempre il mio, perché mi avete scritto che è venuto un bel seno. Io ho sempre avuto una quarta abbondante, quando proprio ero magra, che ho perso un po' di chili, effettivamente il seno lo sapete, è il primo che ne risente, ma la mia quarta ce l'ho sempre avuta, che poi si è diventata una terza C, ma quarta era e quarta mi ritrovo. Quindi insomma, sono un bel donone, va? 1,75 senza tacchi, non mi posso azzardare a mettere 12 centimetri, perché fate voi il calcolo a che altezza arrivo, insomma, faccio la mia figura quando passo a... E proprio grazie ad un commento di una di voi, ho acquistato la taglia M di questo vestitino di cui vi avevo già accennato. La nostra amica ha utilizzato un termine che io ho trovato adorabile, burrosa. Mi ha scritto che nonostante lei abbia un corpo burroso, la M è perfetta, non fascia. E questo commento mi ha invogliata ad acquistare l'abito che vi avevo già menzionato. La L per la mia fisicità è troppo, era troppo abbondante. Ora vi faccio vedere indossato l'abito. Ragazze, non entriamo in meccanismi di bellezze stereotipate. Ognuno si deve piacere e accettare per come è, ovviamente è un discorso di salute, non di bellezza. Posso capire chi voglia perdere qualche chilo per un discorso preventivo a scopo salutistico, per abbassare il colesterolo, per evitare il diabete. Ecco, queste dinamiche le posso accettare. Il movimento perché è utile per le articolazioni, soprattutto per le donne che si affacciano alla menopausa, tanto di cappello. Il movimento è ben accetto, ma non per fare diete dimagranti e fare a 50 anni, almeno per quello che mi riguarda, la ventenne. Io ho tre figli, ho 52 anni e mi accetto anche così. Le donne, le forme, le devono avere, almeno. A me piace una femminilità sinuosa, a stecchetto non mi piace. A me piace la donna sinuosa, che abbia magari anche un bel muscolo, una bella gamba definita. Ecco, sì. Ovviamente questo è tutto poliestere, perché è realizzato con 99% di materiale riciclato, la struttura è a maglia, le spalline sono sottili e regolabili, ha uno spacco sul retro, cade dritto e vi dicevo, anche con un blazer però bianco, secondo me fa la sua porca figura. Sono quegli abiti, quei materiali, che potete stropicciare, buttare nello zaino, in valigia, perfetto anche per una sera d'estate in vacanza. Con un bel sandalino nero, fate la vostra porca figura. Ok? Ecco, sì. Per questo What a Spesa lì dell'Eurospin è tutto. Io vi mando tanti bacini, bacioni, baciotti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!